Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una risoluzione presentata dal Partito Democratico che condivide i contenuti del programma regionale di sviluppo 2021-2025 e pone una serie di impegnative alla Giunta regionale che è chiamata a procedere nella definizione del programma regionale di sviluppo 2021-2025 per cogliere le opportunità di questa fase storica con l'obiettivo principale di una Toscana più coesa, capace di superare i gap storici che hanno finora separato l'area centrale più ricca e urbanizzata da quella della costa e dalle aree interne. Il tutto all'interno di un disegno di rilancio e transizione verso un'economia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, favorendo la digitalizzazione e la competitività del sistema produttivo e della pubblica amministrazione toscana, puntando ad attestare la Toscana tra le regioni più avanzate del Paese e d'Europa. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social è un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi cinque anni. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della regione toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e di un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della regione, quali sono le principali strategie prioritarie che vogliamo mettere in campo, come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori e alle comunità sociali utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica. Su tutti e questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche e circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana. Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare, ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale, che valorizzi la sua rete ospedaliera anche fatta dai piccoli ospedali che hanno comunque mostrato una grande utilità in questa fase. E poi l'innovazione tecnologica non soltanto applicata all'impresa, quindi alla produzione artigianale e industriale, ma anche alla pubblica amministrazione e quindi ad una maggiore velocità nella risposta che dovrà essere data ai cittadini e alle imprese. E poi come elemento di più eco e migliore accesso ai servizi, pensiamo ad esempio alla telemedicina, quindi in grado di abbattere anche le distanze di residenza dei nostri cittadini tra chi sta magari nella realtà urbana vicini ai grandi ospedali e chi invece sta nelle aree interne. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAIRA è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancora al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata ma pensiamo che sia utile e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza, cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori alla Toscana. Perché da una grande opportunità altrimenti questo piano potrebbe rivelarsi una programmazione sbagliata e che non risponde a tutti quei cittadini che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche si rivolgono a noi piuttosto che al PD, piuttosto che a altre forze politiche. Quindi noi stiamo lavorando ancora a questa proposta e appena arriverà poi il testo. Siamo pronti anche ad emendarlo e a cercare ulteriormente di portare a casa risultati per tutti i cittadini toscani. La Piana regionale per lo sviluppo ci aspettavamo sinceramente affrontasse i temi entrando un po' più nello specifico. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi e la Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il Digital Divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male, che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Oggi nascono e nell'epoca della digitalizzazione avranno due vite differenti. Chi non nasce in zone coperte dalla digitalizzazione, zone più evolute da un punto di vista digitale, parte svantaggiato, parte svantaggiato per il percorso di studi, parte svantaggiato per potersi collegare culturalmente e questo è un qualcosa di totalmente inaccettabile. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, qualcosa che porti monetizzazione, che porti interesse, che si riescano a capitalizzare questi soldi, oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo, perché se oggi questi soldi vengono spesi in provvedimenti spot che non portano un ricircolo del denaro, che non portano un rilancio reale dell'economia, quello che oggi sembra un regalo potrebbe diventare presto un incubo. Un atto importante, un'informativa sul documento più importante che la Regione Toscana deve affrontare, il piano regionale di sviluppo è il documento con il quale le risorse comunitari si intricano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica perché la tenuta sanitaria di una Regione determina sviluppo economico, questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi molti che arriveranno in Toscana si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza un monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici con delle modalità che sono altrettanto generiche e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse trite e ritrite e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio e sul benessere delle persone, ma sempre su numeri del PIL. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione che ha visto come primo firmatario il consigliere regionale d'Italia Viva Stefano Scaramelli che impegna il Presidente della Giunta regionale a farsi carico in prima persona dell'importanza di una fase così delicata come quella della sperimentazione per la validazione del farmaco anti-covid, sollecitando, monitorando e coinvolgendo tutti i soggetti in campo per consentire rapidamente alla Toscana di sottoporre quante più persone possibili a questa nuova cura sperimentale. È infatti da un anno che la Fondazione Pubblico Privata Toscana Life Science sta lavorando al farmaco anti-covid a base di anticorpi monoclonali e anche la Regione Toscana ha investito in questo progetto in vista di creare a Siena un centro di rilevanza europea per la lotta alle pandemie. Un atto forte, ho presentato il Consiglio regionale per impegnare il Presidente della Giunta regionale Toscana, Eugenio Gianni, a impegnarsi in prima persona. Serve che la Toscana faccia la propria parte nel percorso di sperimentazione. Serve aumentare il numero delle persone che si sottopongono in termini volontari a questo processo che è importante. Se pensiamo che noi abbiamo circa 100 positivi al giorno, basterebbero 6 positivi al giorno che entro le 72 ore potrebbero sottoporsi in maniera volontaria a una cura che li può guarire e nel guarirli li rende intanto sicuri del fatto che la loro condizione di salute non peggiora e allo stesso tempo danno un contributo straordinario alla scienza. Perché servono 800 persone in Italia che danno un contributo. A me è successo nel momento in cui diedi il mio sangue subito, appena malato e quindi guarito dal Covid, perché da quel processo si può aiutare la scienza. Avere un farmaco è determinante, perché avere un farmaco ti può consentire di non dover fare magari il terzo richiamo di vaccino. Può avere un effetto importante qualora le persone si dovessero poi riammalare anche dopo l'estate e soprattutto può farci tornare una vita normale. Questo è un tema sul quale noi non si può mai abbassare l'attenzione. Bene i vaccini oggi, ma domani servirà comunque un farmaco per uscire da questa pandemia. Se no, noi non usciremo mai da questa pandemia. La Toscana ha un farmaco, l'ha prodotto, è nelle disponibilità, il Governo si è impegnato ad acquistarne 200 mila dosi, è l'unico progetto pubblico che potrebbe diventare di proprietà pubblica. Cioè lo Stato, la Regione, titolari del farmaco, grazie al quale si può avere la disponibilità della risoluzione della pandemia e non può la Toscana non partecipare al processo di sperimentazione. Siena, Pisa, Firenze devono fare 40 processi di sperimentazione, hanno le possibilità di fare due malati al giorno. Noi chiediamo che medici di base, volontariato, aziende del territorio, aziende universitarie sentano loro questa battaglia e questa sfida perché può veramente essere la soluzione alla pandemia. E se ciascuno non dà un contributo all'altro, ci eravamo detti che da questa storia uscivamo tutti insieme, altrimenti diventa difficile. Se ognuno pensa che ha fatto il vaccino per sé e se ne frega degli altri, qui il problema non si risolverà mai. Oggi è un atto importante e a me fa piacere che il Presidente Gianni, a seguito della risoluzione che poi ringrazio tutti i gruppi che la stanno firmando e l'hanno firmata e verrà approvata all'unanimità, quindi ha dato poi mandato al fatto che seguirà personalmente questa questione.